Attenzione, pallone al volo in avanti, Sassuolo che ci prova la disperata McKennie che cerca di prendere il pallone e far rimbalzare sul pene di Cazzaropoulos e poi la palla rimane lì, attenzione, indietro per Lopez e buonanotte per Cosoli e poi questo qui non è entrato che non so manco chi ha palla in profondità, quadrato, la fa addirittura rimpallare sul numero 77, il terzino sinistro del Sassuolo Cazzaropoulos, mentre applaude Vlahoviccio, the man of the match, anche se non è stato proprio straordinario questa sera, però ci ha fatto veramente vedere delle cose interessanti, diciamo così, dall'ottantacinquesimo in su e la Juventus si appresta quasi, mancano pochi secondi alla fine, quattro minuti di recupero sono scaduti già da un pezzo, siamo al 95, attenzione, Perin si pulisce i tacchetti perché è importante pulirsi i tacchetti al 95 quando stai vincendo 2-1, ricordatevi sempre, questo non è solo di caso, pulitevi sempre i tacchetti sul palo quando state vincendo, rilancio del portiere, per, incredibile, si sbattono, Rabiotto e Caio Giorgi, poi Locatelli che sbatte contro Alessandro, ragazzi che cazzo state a fare, non so neanche quanto recupero ancora c'è, ma McKennie prende la palla e poi la perde, vabbè, ciao, anzi era di bala, e finisce qui, finisce qui. Uff, mamma mia, ok, parliamo giusto di due cose da dire, ah, è stato dato comunque la torreta a tre soldi, non gola a Vlopoviccio, ma va bene lo stesso, e tra l'altro hanno appena riscattato il rivo, quella che rinforza, rivo, ragazzi, allora, allora, diciamo questo, diciamo che è stata una partita brutta, brutta perché la Juventus dall'entusiasmo, dall'entusiasmo che, da cui proveniva quando c'è stata la bellissima partita di campionato, ci aspettavamo molto di più, e l'avevamo avuto nei primi tre minuti, quando tu vai in vantaggio con una bellissima azione in profondità di Alexandro, che la mette al centro, McKennie tira, rimpallato, di bala, un gol bellissimo in contropasso, tutto molto bello, tutti molto bravi, tutto da applaudire. E poi? E poi? Domani, la sto rivolgendo a voi, ma Allegri la dovrebbe rivolgere ai suoi, tutti se la dovrebbero, i cacciatori se la dovrebbero rivolgere ai loro stessi. E poi che cazzo è successo? Una Juve completamente sparita, per quasi tutto il primo tempo, solo sul finale, solo sul finale qualcosina, ma troppo poco. Il che non va proprio bene, abbiamo fatto l'esempio del Porto, cioè noi siamo andati, fa un ottavo di finale, abbiamo regalato un gol al Porto, ma poi non è che abbiamo giocato solo noi nel primo tempo, come dire, eh vaffanculo, abbiamo regalato un gol all'inizio, adesso vi facciamo il culo a strisci. No! Cioè, diamine, è giocato solo il sassuolo, ma perché cazzo? Poi inizia il secondo tempo, adesso Allegri si farà sentire negli spogliatoi, adesso Allegri che strigliata che dà, cazzo, i primi 10-15 minuti del secondo tempo, forse pure qualcosina in più? Ma stiamo scherzando? Così ne metto un rivolgo con tutto se stesso, sì, sul finale lo facciamo, capito? Però bisogna dire anche un'altra cosa, a un certo punto però, se nel frattempo siamo al 97esimo o no, direi anche di no, a un certo punto però, bisogna dirlo, l'Eventus ha iniziato a giocare veramente bene. Non so perché è calato il sassuolo, perché è calato il sassuolo, perché a un certo punto l'Eventus ha anche cambiato la formazione, ma io non credo però che sia stato soltanto merito della formazione. Sì, togliere Artur, mettere Rabiot, togliere, non lo so, Desciglio e mettere Quadrato, ma non era solo quello il problema. Cioè, io credo che quelle persone che valutano un giocatore, facciamo esempio della Juve, solo in base a quello che esprime in campo, senza mai valutare anche l'avversario, è uscito Desciglio e Quadrato dà di più come terzino? Sì, però quando è uscito Desciglio è uscito pure Traoré. Traoré stava davvero in forma che ha preso a calci la bottiglietta. Cioè, è uscendo Traoré, è normale che poi Quadrato poteva spingere più. Vabbè che poi Quadrato spinge più di Desciglio a prescindere, però Desciglio ha fatto pure una partita di contenimento, perché cazzo che sta solo attaccava praticamente solo sulla destra. Quindi, bisogna anche valutare le partite per quello che sono, eh. Cioè, bisogna stare attenti a questa cosa. Sarà Juve e Fiorentini in semifinale. Comunque, vabbè, parte quello, la Juventus ha già provato, e a quel punto è entrata veramente tanto, tanto, tanto in campo la sfiga. Perché c'è stato pochissimo da fare. È entrata in campo la sfiga, perché comunque il palo di McKennie sul tiro, uguale a quello di Traoré, palo. Tra l'altro quello di Traoré è stato anche un po' diventato da Zagari, palo. Poi dopo, altro palo, quello lì clamoroso, poi i miracoli di Pecola a non finire, Ferrari che salva tre, quattro volte in scivolata. E allora, vabbè, abbiamo capito che la serata è andata malissimo, e sembrava veramente la classica serata storta. Ho detto, vabbè ragazzi, prepariamoci tra un po' se inizia solo 1-2, come è successo, andata di Sassuolo, che ha fatto la stessa strategia psicologica di farci nervosire. E invece poi Vlaovic si è così inventato di sana pianta, questa azione su uno dei giocatori che proprio, sapete, io difficilmente parlo male dei giocatori delle altre squadre, ma Muldur è uno di quelli che ogni volta che lo vedo giocare mi chiedo sempre, ma cazzo bisogna andare in Turchia a prendersi un terzino sinistro? Ma in Italia non ce ne sono, uno di me, c'è un terzino testo, quello che... Ma sai che Muldur è proprio scarso? Vabbè, comunque sarà una mia impressione. Ma non è per Vlaovic, cioè io l'ho visto varie volte giocare Muldur, e rimango sempre così basito. Cioè, ma chi sta lo cazzo di sciù? Cioè, ma io come cazzo fa a giocare qui? Comunque, vabbè, un altro era uno che aveva la Lazio, e mi sfugge il nome, un giocatore, corda, 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 non lo so, uno, Marano con Mario Scarso, l'impressione, comunque vabbè, ci sono stessi giocatori, comunque vabbè, Muldur si fa saltare, e poi è stato anche fortunato, infatti non è gol di Vlaovic, lì è un errore, è stato la tua rete di tre soldi, giusto tre soldi, che quanto vale la Juventus stasera? Però, magari, sono queste partite che danno comunque una certa consistenza, un certo morale. finale, ultime due cose da dire, la prima che Vlaovic, a quanto pare, ritrova la Fiorentina, proprio in semifinale, dove dovrà, per forza, giocare le due partite e andare a Firenze. Vabbè, lì vedrà la Juve cosa fare, e poi, ultima cosa, hanno acquistato, con 10.000 punti, il Riuo con tutto se stesso, e quindi sarò costretto a fare il Riuo con tutto se stesso, ci provo, eh. Riuo! Ecco, fatto questo, ragazzi, io vi saluto, spero che sia stato veramente bello tutto, soprattutto il finale, e speriamo che anche domani il capitolo di One Piece, che vivremo tutti insieme su YouTube alle ore 9, ci darà soddisfazioni, almeno quanto il Riuo ho fatto su questo finale. Detto ciò, comunque, l'importante è passare il turno, e proprio Dujan ci porta contro la viola. Vedi come il destino delle volte, eh? Buonanotte a tutti, grazie mille per averci seguito, mi racconto a fatti bravi, ci vediamo, eh. Ciao!